Simone Strano, chef del ristorante Sensis di Palazzo Montemartini a Roma. Chef, qual è il piatto ideale per iniziare la stagione? Il piatto ideale per cominciare la stagione è l'arancino ad alici, che è fatto con alici, padella fermo, pomodoro d'atteino, odori vari, uva sultanina, caponata e cipolla lago dolce. Dato che sono siciliano e vengo da Ciriale, ho preferito portare la mia terra a casa mia, un po' qui nel Lazio, quindi a Roma, presso Palazzo Montemartini. Un prodotto simbolo della sua terra da utilizzare nei piatti? Un prodotto simbolo è gli agrumi, quindi dal limone agli aranci al mandarino, che coltivo preziosamente nelle mie terre, giù di Sicilia, e porto volentieri ogni volta torno da un viaggio da casa.